bella a tutti ragazzi sono della spiucchi e oggi siamo in questo nuovissimo video per farvi vedere no per farvi vedere per fare una challenge vedere cosa quindi per fare una challenge e useremo appunto il mitoclustavex aspettate che c'è la rata spazzarigine qui per il piatto appunto andremo giù il mitoclustavex la challenge qual è? la challenge è quella di non mirare quindi di sparare soltanto a bruciatello in crocello normale senza andare troppo complicato come se nella terra termetica vabbè quindi la cosa sarà solo di mirare cioè solo di non mirare con qualsiasi arma quindi vabbè col pompa non sarà difficile con la pesante un po' di giubre con tutto classico allora sull'estine ho dei progetti a me piace moltissimo questo gioco quindi mi piacerebbe condividerlo d'altro che youtube succede cosa serve? serve per condividere diciamo sia i miei pensieri che le cose che mi piacciono quindi io mi piace destini e vi porto destini e quindi spero che vi piaceranno i video che ho in mente di fare usciranno in spoiler un attimo due cose che sono che usciranno diciamo le review delle armi perché ragazzi siamo arrivati sul nostro campo di battaglia quindi faremo questa challenge ritmo di faremo questa legge una cosa indefazione è una sfida che mi auto faccio i challenge sono delle altre cose quindi troviamo quindi la cosa è che non si conquista si va solo all'attacco Senza mai Vabbè no no Mai mi ha avuto Quindi io mi sembri a portare a Oh 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 Cambi Un po' Un quadrato di merda Quindi portiamo di Fare una partita No 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 Attacchiamo Zona B Persa Comando perso Che ruolo Attacchiamo Ok Continuando Che cosa mi hanno fatto Il granulato di E' questa E' morto 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 In modo A Night E' morto E' morto E' morto uomini la calma la macchina ormai Allora, a vero, mi sembra il pazzo, ma che è un pochino che non si vedono in una minaccia. Non lascio di bomba, se poi si... Oh, non mi riesco. Oh, è un post-mortem. Va bene. Sarebbe un po' smart, quindi non potete leggere benissimo anche il certifico che diceva che lui, a volte di me, io non riuscire e gli dò questo. Segui un po' in un po' la vento, non ci vedo, non c'è, non c'è, non c'è. Non diranno i suci che dovrebbero spostare. Mamma mia! No! Baffanculo! Tua madre è troppo! Non sono pesante, non sono pesante. Caliii! Cioè, comunque sembra, vuol dire che ci sarà un sacco di gente dove non posso sparare mirandolo. Cioè, non ce l'ho spostato su questo, ecco appunto. Ora, gente, era pesante. Quindi, meno male che non useremo mirandolo. E anzi, meno male, non ha spostato, non ha spostato, non ha spostato, non ha spostato più, ma... Allora... Ok, adesso, questo... Nel momento, in questo momento, sarà... Ecco, dicono, che stanno, i miei amici? Là! Io ho paura di andarci. Là! È capito! No, no, la connessione della... No, 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 no. E per questo è capire il perché ci metto a caricare i video. Vediamo, è la telepola. Cosa non è la sua? Scusi, via. Da-da! La zona B è neutra. La granata è troppo, per ora. La granata... Scusi, me lo vedo anche. No, no, ma che cazzo... Sì, ciao, bello. Sì, mi ha conto, bello. Ma io mi prendo lì da dietro. Oh, che cazzo... Ma dai, ma mi ha fatto il triccio, che non vale come niente, proprio se non è scatto. Non so che si fa quest'anno, bello. Da non sare qualcuno. Eh, eh! Mai. Siamo anche terzi, nonostante tutto questo. Mamma mia, signori. Il trick shot che stiamo facendo. Il trick shot che stiamo facendo. 2.000 punti e 40 senza mani. Ho visto! Ti avevo visto! Ok, da adesso in poi... Solo... Un'arma primaria. Non devo dare mai la secondaria. Io sarò veramente una cosa che non mi cazzerò. Non so che assomenta, ovviamente. Ok, ok. Ah sì, mi fa bene anche quello. Ok, ok. Lo ho preso! Lì, 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 lì. Sì! Grazie a un'arma, Bellu, bellu, bellu. ma com'è assist che gli ho fatto giù tanti di quei colpi fuggiati guardate come non ce la dà non so talmente quanti colpi gli vanno a do noo no Oh è picchissima! Nooo non possiamo pagare, sono capace di quelle cose assurde No! Ehi vale, non! E adesso mi puoi tenere un'epidocina di venne? No, non lo vuoi! XD no! l'incontro che c'è da masso la zona B è neutrale oh oh assisti a uccisione signori mi fa tro mi fa tro la dice che non è stata di morire non è la pelliccia non è stata di morire uccidi tu mare grazie no 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 grazie a tutti tutti mi ridano molto va bene va bene no 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 non ti connessi perché mi ridano oh tutti gli massi sono qui io sto sparando a caso non so neanche chi hanno niente se no 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 bombanata di merda vabbè questo ho fatto l'altro ragazzi 3000 punti 3000 senza senza mirare mai avete un altro difficile però è un liceo che da un bel quarto li avrei tolto tipo uccisi invece no oh guarda dai 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 hai preso il Spero anche voi sinceramente Non abbiamo droppato come sempre un cazzo Quindi esco dalla partita Ci vediamo al prossimo video Lasciate un like, commento e iscrivetevi al canale Grazie per i 50 iscritti Bella